La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo avanti con l'eccellenza dell'anno Insurance, comunicazione per la diffusione della cultura finanziaria. Il premio va a Alleanza Assicurazioni. Per essere un'eccellenza italiana leader nel campo assicurativo, in particolare per l'impegno nella diffusione di temi ad alto impatto sociale, con particolare riferimento alla cultura finanziaria e assicurativa, che consentono alla clientela una maggiore conoscenza e consapevolezza in tutte le scelte finanziarie. Benvenuti alleanza assicurazioni, comunicazione per la diffusione della cultura finanziaria. Ed eccoci, bentrovati in questa nuova appendice, possiamo definirla così, dei nostri Elefonti Awards, l'evento che celebra le eccellenze italiane. Io do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, ovvero Claudia Ghinfanti, responsabile marketing di Alleanza. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Ecco, con la dottoressa Ghinfanti parleremo di educazione finanziaria, un tema estremamente importante, anche perché lo ricordiamo appena passato il mese di ottobre, che è il mese dell'educazione finanziaria. Ed è un po' una nota dolente per il nostro paese questa tematica in particolare, perché lo sappiamo rispetto alla classifica europea, ci troviamo un po' agli ultimi posti per quanto riguarda l'educazione finanziaria. Ed è veramente un peccato, perché sappiamo che gli italiani sono in realtà dei risparmiatori, hanno comunque qualcosa, avrebbero qualcosa da investire. Molto spesso però non lo fanno per due motivazioni, o perché c'è ancora una vecchia, diciamo, idea, quella di tenere i soldi sul conto corrente sotto il materasso, come si diceva una volta, oppure perché non hanno le competenze, gli strumenti necessari per sfruttare a pieno il loro capitale. Manca un'educazione finanziaria di base, a partire naturalmente anche dalle scuole. Quindi le chiedo, dottoressa Ghinfanti, innanzitutto perché è così importante parlare di educazione finanziaria? Sì, allora, innanzitutto, come diceva, il livello dell'Italia è ai noi tra i peggiori a livello europeo, siamo il fanalino di coda dei paesi oxe e quindi questo è un po' il primo punto su cui prendere consapevolezza. Tanto è vero che nell'agenda ONU, nell'agenda ONU del 2030, uno dei punti è proprio l'educazione finanziaria. Ora, questo tema è ancora più critico nel contesto attuale, perché l'impatto di avere una bassa conoscenza finanziaria fa sì che le persone, al momento di dover prendere una decisione finanziaria, voglio usare le espressioni anche un po' entrino in ansia e si fanno prendere dalle emotività e quindi fanno scelte anche non razionali. Questo è un po' il punto. E allora è qui che, a mio avviso, in un contesto come questo, di grande incertezza, dove peraltro ricerche anche recenti come l'Ipsos ci dicono che una delle paure degli italiani è proprio quella di impoverirsi ancora di più e quindi di acuire anche le diseguaglianze sociali che ci sono, io credo che l'unica risposta sia quella del privato che si affianca al pubblico, quindi le aziende, sicuramente le istituzioni che si affiancano al pubblico e da questo punto di vista, almeno questa è un po' l'interpretazione di Alleanza, di avere un ruolo sociale e di poter dare un contributo nell'aumento dell'alfabetizzazione finanziaria e assicurativa dell'Italia. Ecco, lei ha detto molto bene, nel senso che quando mancano gli strumenti, le competenze, poi alla fine ci si lascia prendere sostanzialmente dalle emozioni e dalle emozioni negative, anche perché di notizie non belle ne riceviamo davvero tante in questo momento. Naturalmente l'emergenza economica, finanziaria, quella energetica è ai primi posti delle cose di cui si deve occupare immediatamente anche il governo e lei dice ovviamente ci deve essere un contributo insomma sia del pubblico ma anche del privato e nello specifico quindi le chiedo qual è il contributo di Alleanza rispetto proprio al tema dell'educazione finanziaria? Sì, dunque Alleanza sta investendo molto e questo già da un paio d'anni perché nel 2020 abbiamo lanciato quello che abbiamo definito il nostro piano nazionale di educazione finanziaria e assicurativa che è fatto di una serie di attività che abbiamo messo in campo. Diciamo che i filoni principali di questo piano che stiamo portando avanti sono da un lato eventi educativi, noi abbiamo fatto in un paio d'anni circa 800 eventi educativi che hanno coinvolto oltre 260 mila persone tra i nostri clienti e non solo e questo è un filone, eventi educativi sul mondo finanziario ma non solo, anche sul mondo assicurativo con il concetto di rischio della famiglia, della salute, quindi abbiamo spaziato in vari ambiti e questo è uno dei filoni delle nostre attività. Poi abbiamo un piano editoriale dedicato, cioè stiamo producendo migliaia di contenuti che diffondiamo attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito dove abbiamo una sezione proprio dedicata. Contenuti in linguaggio cosiddetto B1, quindi alla portata di tutti, ad esempio delle mini pillole che spiegano il concetto di rendimento, il concetto di inflazione, il concetto di rischio e abbiamo ottenuto sui social solo l'anno scorso del 2021 qualcosa come 50 milioni di contatti. Ecco, quindi questo è sicuramente il secondo ambito. Un terzo ambito di attività è quello di, diciamo, investire sempre di più sulla formazione della nostra rete. Noi abbiamo 11 mila consulenti sul territorio, abbiamo fatto solo sui temi di educazione finanziaria nel 2021 qualcosa come 43 mila ore di formazione per essere, diciamo, sempre più preparati e in grado di rispondere a tutte le domande del cliente. E poi oltre a questo ci sono anche parneci. Però ecco, questi sono gli ambiti, quindi un impegno importante da parte nostra. Certo, insomma, da un lato la formazione, dall'altro mi piace con questo concetto di semplificazione, cioè il fatto che appunto materie apparentemente complesse e irraggiungibili come l'economia e la finanza in realtà, se spiegate bene, ecco, possono arrivare appunto ad una platea, a un pubblico molto più ampio. Lei ha citato appunto tutta una serie di iniziative che state facendo, ma ce n'è una in particolare, l'Edufin Index. Ecco, ce ne vuole parlare? Che cos'è? Molto volentieri. L'abbiamo lanciato proprio adesso, a ottobre, in occasione del mese dell'educazione finanziaria. È il primo osservatorio, primo nel senso che abbiamo deciso, appunto, che avrà una continuità e che quindi vedrà delle rilevazioni anche negli anni successivi. Osservatorio proprio della conoscenza assicurativa finanziaria, ma non solo, della conoscenza anche del comportamento. Innanzitutto è un osservatorio che abbiamo creato con la collaborazione, quindi non solo, diciamo, da parte di Alleanza, con la collaborazione di Fondazione Gasbarri e soprattutto la collaborazione scientifica della Bocconi. L'idea con questo osservatorio è di voler anche individuare e monitorare un indice molto sintetico. Infatti l'output finale è proprio l'Edufin Index, che sostanzialmente misura da un lato, come dicevo, la conoscenza con l'awareness index, quindi il livello di conoscenza, e dall'altro invece il comportamento, quindi il behavioral index, il comportamento degli italiani a fronte appunto di decisioni sostanzialmente finanziarie e assicurative. E rispetto ad altri osservatori che sono già presenti, diciamo abbiamo voluto portare delle novità a beneficio di tutta la comunità finanziaria, ecco perché l'abbiamo presentata appunto giorni fa, la presenza di tutto il mondo finanziario, perché non solo andiamo ad indagare il livello di conoscenza finanziaria, innanzitutto, come è stato fatto anche da altre ricerche, come quella di Banca d'Italia, piuttosto che di IVAS, ma anche il livello di conoscenza assicurativa e la percezione del rischio. L'altra cosa è non solo il livello di conoscenza, ma anche il comportamento, come dicevo, e l'attitudine. E per finire un'altra novità importante è che siamo andati a indagare anche i nuovi italiani, quindi la categoria di nuovi italiani abbiamo fatto un focus specifico anche su alcune comunità, la comunità filippina, sudamericana e rumena. Quindi insomma abbiamo voluto dare anche degli elementi, un contributo in termini proprio, diciamo, informativo, informativi e scientifici, diciamo così. Certo, ecco, la scientificità del dato da lì non si scappa, insomma, e avete ovviamente una mole interessante di dati rispetto ai comportamenti, alle conoscenze, divisi anche appunto per le diverse categorie. Ma quali sono i risultati, a questo punto le chiedo, ecco che avete ottenuto attraverso queste ricerche che pervengono poi all'osservatorio? Sì, allora, innanzitutto il primo risultato proprio sintetico è il livello dell'Edoufine Index che è un livello 55, che vuol dire in una scala da 1 a 100 la sufficienza è sopra i 60 e quindi già l'Edoufine Index 55 ci dice che siamo sotto la sufficienza. Si articola in questi due sotto indici che anticipiamo prima, ovvero l'Awareness Index che è 51, quindi ancora più lontano dalla sufficienza, quindi il livello di conoscenza, e invece un behavioral Index che è 58, quindi al pelo quasi alla sufficienza. Che interessante questo delta tra i due perché ci dice sostanzialmente che gli italiani non sanno, ma per fortuna sono abbastanza consapevoli del non sapere al punto che al momento della decisione, diciamo così, hanno un comportamento più attento. Ci mettono la testa, voglio usare un'espressione diciamo che chiarisca un po' il loro comportamento e questo quindi in qualche modo significa che tendono a correggere la loro mancanza di conoscenza o conoscenza limitata con un comportamento appunto più attento, affidandosi, e questo è un altro dato interessante, principalmente a consulenti finanziari o assicurativi. Questo direi che è sicuramente un primo risultato. Un altro risultato molto interessante è poi come si articola questi numeri tra diciamo le varie vari cluster, le varie categorie di cittadini italiani, visto che prima non l'ho detto ma abbiamo intervistato 3.500 persone che è un campione rappresentativo della popolazione italiana. Ecco, quello che vediamo è che ci sono alcune categorie più fragili di altre e mi riferisco a chi non lavora, chi non è occupato, ai giovani e questo è un bel campanello di allarme a mio avviso e alle donne, ai noi ma soprattutto le donne diciamo casalinghe quindi magari non occupate. Ecco, in queste fasce di popolazione, a proposito di diseguaglianza sociale di cui parlavo prima, il livello è ancora più basso mentre è più alto e sopra la sufficienza per chi ha dei redditi alti, sopra i 40.000 euro all'anno. No? Quindi questo è un altro dato molto interessante. Altro dato per dare poi un'indicazione anche sui nuovi italiani di cui le parlavo, sui nuovi italiani il livello di conoscenza è ancora più basso e quindi è 46 la Edufin Index e questo era un po' diciamo aspettato però quello che è interessante ancora una volta è che si vede che chi dà più anni in Italia, chi parla bene la lingua e chi ha un reddito dei nuovi italiani di questi tre cluster che le dicevo, un pochino più elevato, il livello migliora ed è quindi un po' più in linea con il resto della popolazione. Quindi insomma i dati sono tanti, le ho dato proprio un piccolo flash perché ci sarebbe tanto da approfondire. Sì, sono numerosi perché appunto ci sono in realtà delle differenze che riguardano innanzitutto l'età e poi appunto anche la classe sociale, il patrimonio quindi insomma. Però ecco di tutto questo in realtà c'è un comune denominatore che dobbiamo studiare perché siamo sotto la sufficienza praticamente in tutti i campi, c'è appunto il behavior index che ci dice in realtà che riusciamo almeno a mettere una pezza rispetto alla mancata conoscenza con un comportamento che però è più assennato, cioè sappiamo di non sapere e quindi ci affidiamo a chi conosce più di noi. Almeno questo ecco l'abbiamo appurato grazie appunto ai dati dell'osservatorio. È una buona notizia in un certo senso, nell'altro no perché c'è ancora molta molta strada a fare. Assolutamente sì, c'è molta strada a fare però come diceva lei è una buona notizia perché sappiamo da dove partiamo e soprattutto noi in prima battuta ma vedo sempre di più interesse su questo tema, focalizzazione anche appunto da parte delle università perché le dovremmo fare anche un ragionamento serio su come agire sui giovani e quindi su tutta la parte. Perché lei in realtà ha citato l'università ma in realtà l'educazione finanziaria magari è qualcosa che andrebbe introdotto molto prima come l'educazione civica sin dall'elementare ecco magari le basi ma anche ai ragazzini, ai bambini più piccoli per poi avvicinarli progressivamente alla materia e soprattutto insegnare una volta che saranno cresciuti come gestire le proprie finanze perché alla fine si tratta dei loro soldi. Assolutamente, qui mi ha alzato la palla per citare un altro progetto del gruppo generale in Italia a dir la verità, quindi non solo di alleanza che è ora di futuro che è esattamente questo andare nelle scuole elementari con appunto dei contenuti formativi ovviamente nella modalità opportuna per quel tipo di età dove proprio l'intento è quello di cominciare a creare le basi in maniera molto semplice proprio sul mondo finanziario e il mondo assicurativo e quindi i rischi delle persone e della famiglia. Anche perché la parola rischio è di estrema attualità, sappiamo insomma che viviamo in un mondo insomma perennemente che ci comporta in realtà degli imprevisti, delle cose che nessuno si aspetta l'abbiamo visto negli ultimi due anni prima con la crisi pandemica, poi con la crisi internazionale e di fronte a questi imprevisti che ricadono inevitabilmente anche sull'economia dobbiamo saper reagire e reagire tempestivamente. Assolutamente. Benissimo, io dottoressa Ginfanti la ringrazio per essere stata qui con noi per averci regalato il suo punto di vista, naturalmente quello di alleanza rispetto a un tema così importante come quello dell'educazione finanziaria. Grazie e a presto. Grazie a voi e a presto. Grazie a voi.